Benvenuti nel mondo degli orologi Breguet. Breguet è un nome che rappresenta l'eccellenza dell'orologeria svizzera fin dal 1775, anno in cui il fondatore Abraham-Louis Breguet ha aperto la sua prima manifattura a Parigi. Nato nel 1747 a Neuchâtel, Breguet ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della perfezione meccanica, inventando soluzioni geniali per risolvere i problemi di precisione e lubrificazione degli orologi. Fin dai primi anni della sua attività, Breguet ha ottenuto il riconoscimento dei personaggi più in vista dell'epoca, come Napoleone Bonaparte e Maria Antonietta. Quest'ultima ha commissionato al maestro uno dei suoi capolavori indiscussi, l'orologio ancora oggi noto come numero 160 o La Regina. Purtroppo, né Breguet né La Regina avrebbero mai visto completato questo capolavoro, che è stato terminato solo 44 anni dopo il suo inizio, nel 1827. Ma la fama di Breguet non si è limitata alla Francia, nel 1789, quando in Francia scoppiò la rivoluzione, il maestro trasferì la sua attività in Svizzera, dove continuò a creare orologi sempre più stupefacenti. Nel 1800, inventò il Tourbillon, un dispositivo che compensa gli errori di precisione causati dalla gravità terrestre, considerato l'invenzione più importante nella storia dell'orologeria. Nel 1808, divenne il fornitore ufficiale della Marina Imperiale Russa e della Marina Reale Francese. Breguet fu anche uno dei membri del Bureau de Longitude, un'organizzazione creata dai francesi per sviluppare cronometri da marina più precisi. Nel corso della sua carriera, Breguet inventò numerose soluzioni innovative per gli orologi, come l'antiorto a paracadute del 1790, ripreso nel 2002 dalla Maison per il Tradition, o la prima pendoletta da viaggio del 1796. Il suo ultimo sforzo fu il cronografo ad inchiostro del 1822. Breguet morì nel 1823 all'età di 77 anni, lasciando al figlio Louis l'impresa di portare avanti la tradizione della casa. La filosofia di Breguet si fonda sulla perfezione tecnica e la bellezza estetica. La maggior parte degli orologi Breguet sono dotati di numeri romani, lancette azzurre e piccole decorazioni in oro, che rappresentano il marchio di fabbrica della Maison. In conclusione, la Maison Breguet è stata e continua ad essere un punto di riferimento nel mondo dell'orologeria di altissima qualità. La sua storia millenaria, la sua ricerca costante di innovazione e il suo amore per l'arte la rendono una delle marche più prestigiose al mondo. Acquistare un orologio Breguet significa possedere un pezzo unico di storia, un oggetto di inestimabile valore che ci accompagnerà per tutta la vita e oltre. Grazie a tutti.